corner bros beh capito la tabella non la prende nessuno eh no figa stanco questo qua sta qua seduto chi? vecchio dai un bacione sul taglio un bel gira patato perché la zia ci mette un occhietto eh è vero? secondi ne prendiamo? tieni leva vecchio aspetta che se lo ti viene un crampo al culo adesso sto frenando io bene così qui cos'è cazzo abbiamo con la prova siamo tornando a sinistro ma subito subito? si è lì ah lì proprio 10 dai eh vecchio bel gira patato 4 3 2 1 via e 20 semi tornante sinistro e vai per semi tornante destro allarga in 80 semi tornante destro allarga 80 a rei attenzione semi tornante sinistro largo e vai semi tornante sinistro largo vai in semi tornante destro fa attenzione è stretto semi tornante destro è stretto vai piega sinistra sfiorala in destra media più veloce destra media più veloce con attenzione subito sinistra media più in corda lunga lunga vai gira e poi chiude un po' il diri 30 gira lunga lunga media vai 30 sinistra media veloce meno sfiora quella lì per destra media veloce meno meno corda lunga dosala poi apre vai a rosso e vai in 80 vai qua vai apre vai 80 in fondo piega sinistra sfiora e credici piega destra meno meno corda lunga lunga piega destra meno meno corda lunga lunga via vai qua diventa media più la ghiaia non qua vai vai qua media più vai per piega sinistra meno meno corda credici 100 dopo i 100 ancora lieve sinistra fondi 200 vai così cazzo in fondo stacca bene semi tornante destro largo apre vai e svelto così via 80 tienila poi ritarda tienila 80 ritarda e stacca semi tornante sinistro per piega destra e dopo la piega destra in fila destra media più vai in fila destra media più vai per sinistra media più vai anche lei in piega destra sfiora e vai piega destra sfiora vai per piega sinistra sfiora giù continua e poi al cartello bianco attenzione diventa media più qua al bianco in destra media più vai attenzione continua e diventa semi tornante destro che è largo qua è semi tornante destro vai largo 50 dopo 50 lieve sinistra e dopo le le vie sinistra in posta destra media veloce vai in 70 in fondo in 70 piega destra giù tutto e dopo piega destra fai attenzione al palo semi tornante sinistro ma vai però qua in 50 dentro sinistra media sinistra velocissima non mollarla continui in piega e vai 80 in fondo gli 80 sinistra media veloce tieni attenzione subito semi tornante destro non tagliarlo porca vai semi tornante destro non tagliarlo per 50 grande ste in fondo lieve destra giù tutto in in fila sinistra corta subito destra media più vai in fila destra media più veloce qua dietro vai per piega sinistra fai attenzione che c'è una frana qua e diventa media più veloce albiri qua vai in destra media più e tagliala destra media più e tagliala per sinistra vai così dentro via sinistra e destra media più taglia va anche lei e piega destra meno meno stacca semi tornante sinistro vai e lunghi due tempi così vai vai così velo cattivo via 60 sinistra media più in corda svelta però fai attenzione che subito dietro c'è una destra media più e lunga 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 in corda vai destra media più lunga lunga in corda vai poi apre via il 21 al masso col 21 apre in 50 così qua apre via 50 lieve destra giù tutto fondila qua per 40 attenzione lieve sinistra fondila giù tutto anche lei per piega destra velocissimo credici in 80 vai dopo gli 80 sinistra media veloce meno meno corda vai e credici media veloce meno meno corda credici con dietro 60 vai dietro 60 giù dai e piega destra la casa meno credici piega destra meno qua credici subito in fila sinistra media veloce meno subito sinistra media veloce meno con 30 vai e 30 ancora piega sinistra meno meno giù tutto qua per 100 vai ancora sinistra media più veloce subito tienila e poi stai a sinistra e stacca semi tornante destro largo svelto così vai deciso in sinistra media più veloce fai attenzione che in tre tempi lunga e lunga in corda tienila corda a tre tempi vai 50 via uno via due ancora uno vai piega sinistra subito destra media più lasciala infilala però destra media più infilala qua lascia 40 ai vi ristacca semi tornante destro largo qua vai tienilo per semi tornante sinistro largo vai e poi apre semi tornante sinistro largo vai apre con 50 fai attenzione in fondo è 50 sinistra media in più corda lunga lunga continua e due tempi vai dopo la casa ancora 30 e attenzione sinistra media più 30 attenzione sinistra media più sfiora la semi tornante destro media più sfiora semi tornante destro 50 vai in fondo e 50 destra media più sfiora la vai la spiga destra media vai sfiora la vai credici piega sinistra sfiora destra media vai sfiora piega sinistra sfiora piega destra con molta attenzione dose brutta e alla casa rosa diventa media più vai apre in corda credici brutta qua destra media più vai corda apre credici 50 al contrario I semi tornati a sinistro Largo vai In fondo si apre Grande Stefano In destra media più e larga Tagliala ma vai E a Elviri Attenzione sinistra media più in corda Ma è svelta Media più in corda e svelta Con 30 A piega sinistra Ritarda Lompelo Poi Arrosso chiude un po' A piega sinistra ritarda Lompelo Chiude un po' In piega destra meno meno corta Qua chiude Vai piega destra meno meno corta In sinistra media più e lunga e svelta Media più lunga svelta Per piega destra Attenzione diventa media più lunga lunga In corda vai Piega destra qua diventa media più lunga lunga Vai corda In fondo piega sinistra Vai piega sinistra e piega destra E secca fai attenzione Piega destra e secca qua Vai 50 E dopo piega destra lunga continua Attenzione chiude un po' In subito sinistra media più Ma la sinistra media più Piega un po' qua Sinistra media più fai attenzione Tagliala in mezzo vai E poi piega destra Tagliala in mezzo Così dopo Piega destra piega sinistra In destra media veloce sfiorala E piega sinistra Vai destra media in fila La veloce meno Destra media in fila Destra veloce meno In piega sinistra giù Tutto lungo lungo continua E vai imposta destra media più in corda lunga apre Destra media più in corda apre Vai 50 Piega sinistra meno Vai Piega sinistra meno Vai qua E al muro destra media veloce meno E fine prova Yeah 6.32.9 Fica ragazzi Mica come si muove Porco Dio Bravo Stefano Non so se abbiamo fatto un gran tempo No Secondo me no Si spostava troppo Mi dai tempi 6.40 6.34 6.31 Fica il 52 6.31 6.40 6.49 6.40 6.34 6.51 6.54 Ha fatto 6.31 Il 52 Cosa con la C2 Chi? Eh 6.32 6.6 Qui c'è il controllo timbro? Si deve andare dentro a sinistra Quello con la C2 lì Quello di Brescia Zucali? Si Minchia Sinistra qua? Si Fica che fatica che ho fatto vecchio Non so se lo sai Abbiamo fatto fatica Immagino E quando si è alzata vecchio Minchia Dio Vai che c'è il timbro Vai Si muove troppo comunque Si Non so se lo sai Grazie a tutti.